Dove sta la differenza nel bere il caffè in un bar con diverse bariste? La differenza sta nella mano della barista. Questo non più con Chuck. Chuck è un pressino pre-regolato per il gruppo di erogazione. Con Chuck il caffè sarà sempre buono. Dopo l'utilizzo puoi lavarlo comodamente in lavastoviglie. Vai Chuck! Anche tu! Grazie per la visione!